Ma mia, sono spaventato Cosa farete adesso? Adesso ci mettiamo in centro io e Andrea e lui ci fa qualche giro intorno Ah, tutta tranquilla, hai paura no? No, assolutamente, è il mondo mio Sì, è il tuo mondo È il mio mondo È puro divertimento Ce ne sono poche, la pensano così, lo ammetto Siamo qui all'H24 L'H24 sulla Tiburtina, sì, abbiamo fatto oggi questo l'1 BMW È collegato al nostro negozio Feudal E sta riuscendo a una bella cosa www.feudal.it Scusate Prego No, di là lo facciamo qua Ed ecco, vediamo qui l'H24 Sta per prepararsi per la stunt Vediamo la ragazza, tranquillissima Tutti e tre Vediamo lo strano Vedete i sassi quei, fumo e sassi Mi è arrivato un sasso sulla testa Tutto ok? Tutto perfetto Dopo le fettuccine, il caffè, è una bella sgommata Complimenti, vogliamo dire il nome Franco Medici Franco Medici, dello stunt Bravissimo EartBMW Giusto? Esatto www.eartBMW.it Stupenda giornata Bellissima Qui abbiamo Feudal E il L'altro Socio BMW Esatto Ok Siamo all'H24 E sulla via di Burtina Vicino Guidonia e Tivoli Bene Grazie Grazie